ciao ragazze oggi in questo video vi mostrerò altre mie creazioni in fimo a proposito vi piacciono le mie unchie? le ho appena fatte anzi vi ricordo che faccio anche la ricostruzione alle unchie e comunque passiamo alle creazioni allora abbiamo questo gelatino biscotto poi poi abbiamo quest'altro gelatino questo di tanti colori poi abbiamo questo di qui questo poi questo con gelato poi altro cono questo di qui bianco e azzurro poi quest'altro gelatino poi abbiamo questo questo di qui questo ghiacciolo poi come come gelato e abbiamo finito poi ho fatto questi lecca lecca azzurro azzurro poi giallo e arancione come altri lecca lecca ho fatto questi di qua a due colori arancioni e blu questi di qua e poi dei marshmallow questi sempre colorati ops stavo volando via questi colorati e blu e poi vediamo cosa posso fare e poi questi di qui fucsie bianchi bianchi fucsie trasparenti con il bastongino di zucchero uguale con lo stesso colore altra liquidizia questa nera e gialla e questa di qui nera nera con un cuoricino viola e le palline bianche e gialla quest'altra liquidizia queste di qua quelle ripiene questa col giallo e anche questa ci sono solo queste perché le altre già usate poi più avanti vi farò vedere dove poi ho fatto queste caramelle queste verde verde e gialla e gialla e questa di qua gialla e nera poi ho sperimentato un po' altra fare questo colicino però è tutto sommato molto carino poi questi ciondolini qui questi ciondolini questa forma di fiore arancione con gli stress dorati questa stellina quest'altro fiore uguale a quello di prima e questo biscottino con scritto it me mancia mi e poi questo ciondolo questa è una delle mie prime creazioni pure quindi insomma non è molto bello poi questa ciambella con la glassa rosa con i due pezzettini con i due pezzettini e poi infine questi due paio di orecchini pendenti una forma di stella viola con la glassa brillantinata blu mi pare che sia sono molto belli comunque per oggi ho finito ci vediamo al prossimo video e se vi siano piaciute queste cose mi lasciate un commento sotto comunque vi saluto ciao ciao ciao